Barbara Malika, tu avevi paura che Mohamed scappasse All'inizio non pensavo che lo facesse Ma ora che è scappato sono sicura che abbia fatto qualcosa Quindi la fuga di Mohamed, questo allontanamento conferma un po' le tue paure, un po' i tuoi sospetti Quello che in quel tuo non avresti mai voluto che fosse vero Ora che è scappato sento che sia stato lui a fare qualcosa Perché è scappato? Ti sei dato una spiegazione Malika? Perché tu sei arrivata qui da qualche giorno, siete stati in questa casa Lui non ti ha accolto come forse ti aspettavi, non ti ha abbracciato Non ti ha accolto come una seconda mamma, quella che poi sei Che cosa ti ha detto appena ti ha vista? Qual è la prima cosa che ti ha detto? E ti ha detto non ho fatto niente a Samira, non ho fatto niente a Samira, vero? Ti ha detto questo come prima cosa? Non abbiamo mai parlato di questo argomento Non ho mai detto niente su questo argomento Mai, non mi ha mai detto niente su questo argomento Ma tu le hai fatto domande, hai chiesto qualcosa a Mohamed? Saul si? E io non le ho mai chiesto niente Quando ho visto che si è comportato in quel modo non ho avuto il coraggio di chiedergli niente Malika tu però sei arrivata qui in Italia in gran segreto tra virgolette Perché non volevi che lui sapesse del tuo arrivo Quindi avevi qualche paura Non volevo che sapesse perché avevo paura che scappasse Come è successo ora Certo, ragazzi Avevo paura per mia nipote Avevo paura per mia nipote che portasse via la bimba e scappassero insieme Non volevo sapesse che sarei arrivata perché avevo paura che portasse via la mia nipote E' andato via però la bimba è qui con voi Barbara, aiutami Gli chiedi per favore Secondo lei perché lui a questo punto avrebbe potuto portarla via la bambina No? Perché i documenti della bambina ce li aveva dietro Per cui volendo se ne poteva andare Era il primo gennaio quando è scomparso Primo gennaio Credetemi O dormivano O le persone dormivano O comunque era un giorno proprio Come dire Di vacanza, no? Ecco E lui è scomparso alla mattina alle 7 Del primo gennaio Se voleva portarsi via la bambina Avrebbe potuto farlo Ok? Secondo te perché non se l'è portata con sé la bambina? Perché la bambina non si staccava mai da Mohammed Perché ci sono io Perché ci sei tu Quindi lui è comunque tranquillo del fatto che ti prenderai cura di sua figlia Sì, non l'ha portata via perché sapeva che io l'avrei cudita bene Perché siamo andati in comune Per questa cosa della bimba Per avere L'affidamento All'inizio non voleva darmi l'affidamento della bimba Però poi ha accettato Quindi la bimba Esatto Eleonora Lo stiamo scoprendo insieme Quindi la bimba è stata affidata a te Anche a noi Lo stiamo scoprendo in diretta in questo momento Quindi Malika I servizi sociali hanno affidato la custodia di tua nipote a te Della bimba a te Sì, l'hanno affidata a me Beh questa, perdonatemi, però è una gran buona notizia Almeno Allora, dicevate Sentiamo gli ospiti da studio Poi ritorniamo perché ho un sacco di domande da fare Alla mamma di Samira Antonella Intanto sono contentissima che la bimba sia stata affidata a lei Perché preoccupava un po' il fatto che stesse sempre con Mohammed Dopodiché noi per tutti questi due mesi e mezzo Siamo stati molto cauti rispetto alle accuse su Mohammed Però questa fuga la dice lunga E poi le parole della mamma sono veramente di vitale importanza Perché era la persona che conosceva meglio sua figlia La sentiva cinque volte al giorno attraverso chiamate e videochiamate Non sentendola più improvvisamente Ha avuto la certezza Quasi la certezza totale Che la figlia avesse Avuto un destino strano E adesso quando dice Quando dice Perché è scappato Perché è scappato Quando la mamma dice perché è scappato Fuga uguale Allora, può essere scappato per me Adesso forse possiamo essere un po' meno cauti Si sentiva Però non ha voluto, come hai detto prima Non ha voluto l'affidamento della figlia Quindi già pensava evidentemente di potersene andare E temeva anche la presenza della mamma in casa Quindi lui non l'ha voluto l'affidamento, no? Quindi ha preferito Non è che non l'ha voluto Ma insomma comunque poter Alla richiesta dei genitori di Samira Della mamma di Samira Di avere in affidamento la bambina Alla fine ha ceduto Però Eleonora, scusa posso finire? Non ha fatto niente per impedirlo Però io mi chiedo a questo punto Se c'è qualcuno dietro Perché Mohamed è una persona Con pochissimi soldi E questo lo sappiamo Perché giocava Per tanti motivi Non parla bene l'italiano Non ha, come dire, nessuna garanzia Chi lo ha aiutato a scappare E se lui fosse veramente il colpevole Chi forse lo ha anche aiutato A far sparire il corpo In così breve tempo C'è qualcuno che lo sostiene? Allora adesso parleremo di questo Le piaccioni sono tante No, pensavo che comunque C'è della premeditazione Evidentemente anche nell'affidamento Della bambina E francamente è un grande sollievo Sapere che sia stata affidata A questa nonna straordinaria Perché un uomo Che premedita una fuga Comunque portare con sé Una minora Una bambina È anche un fardello in qualche modo Se è un uomo che ha compiuto Diciamo sempre se Un atto così grave La sua priorità non è Tenere con sé Una minore Anche se è sua figlia Ma è comunque cercare di Scappare e uscire indenne Da un gesto gravissimo Ecco, scusami un attimo Queste storie Scusate, io devo dare la parola a tutti Queste storie le conosce molto bene Benedetta Paravia La vicepresidente ambasciatore di associazione Love Angels Che opera davvero Angels opera in tutto il mondo E devo dire che voi proprio aiutate i bambini Anche nell'integrazione non solo Ma anche i bambini poi in generale Che sono vittime anche di situazioni di questo genere Sì, noi dal 2008 siamo operativi E siamo nati nel decennio istituito Dalle Nazioni Unite Proprio per favorire i diritti del fanciullo E una maggiore sensibilizzazione Ecco, in questa situazione Come ci si muove? In una situazione di questo genere? È molto delicata Assolutamente Io vedo questa situazione Come un ennesima abuso su una donna Probabilmente un ennesima violenza su una donna Ma non lo vedo geolocalizzato O comunque con una provenienza di etnia Io vedo semplicemente un uomo che è fuggito E una donna, sua moglie che è sparita Quindi questo è il punto fondamentale Per il resto sono contentissima che la bimba sia con la nonna Perché spesso poi i bambini sono quelli a soffrire di più di queste situazioni E non solo ti sparisce la mamma ma poi anche il papà Per fortuna c'è una nonna E di solito i bambini con le nonne e con i nonni hanno un ottimo rapporto Allora, Marco Ferraglioni Adesso parliamo della fuga di Mohamed Ok? Prende la bicicletta La sua bicicletta bianca Simile a quella Con la quale lui racconta Lui racconta che Si era allontanata Samira Ok? Perché tutto quello che noi sappiamo di Samira Degli ultimi giorni ce l'ha raccontato Mohamed Ma a questo punto Davanti ad un comportamento di questo genere Ok? Un comportamento di questo genere Uno deve anche mettere in dubbio quello che Mohamed ha raccontato Eh, per forza Marco Ferraglioni Allora Si sposta in bicicletta Scappa Dice Perché arriva una telefonata al cugino che noi abbiamo in diretta adesso Arriva questa telefonata Fra l'altro questo video Che vediamo Cos'è? Sono immagini, frame Di lui che Dove si trova? In stazione a Solesino? Barbara aiutami Questa me l'hai fornita tu Quella è la strada principale Eh Quello che vedete Sì, è la strada principale di Solesino Perché lui, Mohamed Il giorno 1 È uscito di casa alle 7.30 del mattino Dormivano tutti Ha detto Malika Che usciva E che di guardare La bambina Dopodiché si è allontanato con questa bicicletta bianca La sua bicicletta bianca Noi ieri siamo Scusami, io vedo Andati a fare domande A cercare di capire Se qualcuno lo avesse visto Barbara aiutami un attimo Sì, adesso ci arrivo Barbara Sì, adesso ci arriviamo No, perché No, ti spiego Siccome stiamo vedendo Adesso ci arriviamo È uscito Esatto Esatto Quelle immagini Siccome ci hanno detto Che lo avevano visto Passare in bicicletta All'ingresso di Solesino Noi ieri siamo andati A cercare delle telecamere Sì Nei negozi Nei bar E abbiamo trovato Questa telecamera Che inquadrava La strada principale Che porta al centro di Solesino Abbiamo visionato Le telecamere E abbiamo trovato Queste immagini Di un uomo Su una bicicletta Alle 7.53 Quindi compatibile Con gli orari Che riguardano L'allontanamento Di Mohammed Perché se lui è uscito Alle 7.30 Solesino Dista pochi chilometri In dieci minuti In bici ci si arriva E quindi Quelle immagini Non ne siamo certi Naturalmente Potrebbero aver Quella telecamera Potrebbe aver ripreso Mohammed Perché lo hanno visto La mattina presto A Solesino Beh Se avete fatto Questo lavoro Veramente bravi ragazzi Brava Barbara Di Palma Bravo anche Al nostro Daniele Martelli Guardate Da mesi che sono lì Veramente Me lo ricordo Dai primi giorni In cui parlava Mohammed Faceva appelli in diretta Piangeva in diretta Me lo ricordo benissimo E devo dire Hanno seguito Questa storia Dall'inizio Sia Come dire Come inviata La nostra Barbara Di Palma Sia il nostro filmmaker Daniele Martelli E obiettivamente Da date Non siamo sicuri Ma Data l'ora E tanto il fatto Che il primo gennaio Alle 8.00 di mattina De gente Ce n'è proprio poca Che gira Siamo in un paesino Solesino Un piccolo paese Siamo in provincia Di Padova Beh Obiettivamente Quelle immagini Possono essere Proprio quelle Di Mohammed Allora Sarebbe Dice lui Dice Mohammed Dal cugino Andato In Spagna Perché il telefonino Era un telefono spagnolo Beh Io Intanto Vediamo una cosa Noi dobbiamo appunto Fare i conti Con quello che hanno in mano In questo momento Gli inquirenti Non fare supposizioni O ricostruzioni È troppo facile Farle Io voglio dire Intanto Al momento Se l'arresto Non era scattato Prima Della sua fuga Gli inquirenti Probabilmente Non avevano Gli elementi necessari Per poter far scattare L'arresto Dal momento Che questo indagato È scappato Scatta l'arresto Perché uno dei motivi Per i quali Un indagato Può essere arrestato È per inquinamento Di prove E per la fuga Quindi l'arresto Scatterà a breve Per Mohammed L'altra cosa Da cui noi dobbiamo Appunto Accertarsi È verificare Se eventualmente Mohammed Era in Spagna o meno E potrebbe anche essere Plausibile Anche perché lì La via per il Marocco È molto vicina Potrebbe fuggire Proprio da lì E secondo me In questo momento qua Gli inquirenti Erano già diramato Un arresto internazionale E un fermo internazionale All'Interpol E all'Europol Per eventualmente Identificarlo Il fatto che non sia Fuggito Con la figlia Come appunto Ci sono anche qui in studio I giornalisti E gli ospiti È plausibile Con il fatto che sarebbe Stato un po' più Macchinoso Fuggire con una minorenne Più facilmente Individuabile E quindi Dobbiamo vederlo Fermo restando Che noi adesso Siamo solo nel campo Delle ipotesi investigative Non c'è ancora niente di certo La fuga Potrebbe anche essere Stata dovuta Anche per una sua paura Anche perché Lui rischia 20 anni di carcere Per omicidio E dai 2 a 7 anni Per occultamento Di carattere Di cadavere 28 anni sono molti Quindi Probabilmente Neanche Avrà un difensore Diciamo Suo personale Sarà difeso Da un provo di ufficio E quindi Vedremo come andrà Però Il difensore invece Di Mohamed Ci ha mandato Anche un messaggio Però io prima Volevo far sentire A La mamma Di Samira Quello che Mohamed Dice Di lei Ok Mohamed ha parlato Con noi 3-4 giorni fa Prima della scomparsa Noi abbiamo registrato Le sue parole Le sue dichiarazioni E parla proprio Di te Malika Dice I nostri rapporti Non erano buoni Ad un certo punto Poi si sono rotti Del tutto E Non ci siamo più parlati Sentiamo bene Barbara Così Non so se Malika Riesce Anche a vedere L'intervista di Mohamed E se qualcuno Gliela Traduce Ce la fate Avete un televisore Sì Siamo attrezzati Abbiamo il monitor E la traduttrice Mandiamola in onda Mandiamola in onda Le persone Della famiglia di Samira E anche tuo cugino E anche delle persone Che hanno lavorato Con Samira Ci hanno detto Che voi litigavate Sempre Tante gente Parla così Perché parla così La famiglia di Samira In Marocco Quasi un anno e mezzo Io non parla Per il Marocco Non ho d'accordo Tu hai un anno e mezzo Che non parli Con la famiglia di Samira In Marocco No Non parla mai Io non parla mai Contra il telefono Contra tutti Perché non parlavi con loro Non ho d'accordo Per lei Non ho d'accordo Tu non andavi d'accordo Con la famiglia di Samira No Del Marocco Quasi Quindi tu vai d'accordo Con la famiglia di Samira Che è in Italia Ma non vai d'accordo Con la mamma di Samira Sì Non ho d'accordo Con il Marocco Non ho chiamato Mai Non ho chiamato Non ho d'accordo Per la mamma Per la famiglia del Marocco Tutti Non ho d'accordo Perché? Perché così Non ho d'accordo Andato al Marocco 2018 Sempre parola Non c'è Non i bavini Tu non hai fatto male A Samira Non ho fatto male Niente Io voglio Il carabiniero E la polizia Cerca ancora Per la moglie Io mi piace la moglie Come mai Io ho fatto così? I rapporti tra suoceri Suocera E genero Nell'iconografia Sono sempre complicati Anche in questo caso Però mi sembra Che ci sia molto di più Non si può Non si può far risalire Un contrasto tra suocera E genero Questa convivenza difficile Di questi giorni La fuga di Mohamed Per carità Allora Volevo sentire la reazione Da parte della mamma di Samira A queste parole Mohamed dice che Non andavate d'accordo Che da più di un anno Non vi parlavate E anche io come tutti voi Sono stato raggiunto Dalla notizia Del mancato reperimento Di Mohamed Nelle ultime ore Che dire Sono anch'io Stranito Sbalordito Con Mohamed Mi ero sentito Soltanto pochi giorni fa E in quell'occasione Si era parlato Del fatto Che lui Si sarebbe dovuto Recare Nuovamente Dai carabinieri Per vedersi Effettuare una notifica Cosa che effettivamente È avvenuta Perché pochi giorni fa Mohamed Si è recato Spontaneamente Dai carabinieri Che gli hanno notificato Il provvedimento Di sequestro Del braccialettino Che da ultimo Era stato trovato Quindi Questo fatto Che ora Non si sa più notizie Di lui E che non si sa Che fine abbia fatto Preoccupa moltissimo Anche me Allora vabbè È partito L'avvocato Pizzi Che si trova all'estero È intervenuto Quasi come se fosse In diretta In questo momento E dice L'avvocato Pizzi Nemmeno lui Si aspettava L'avvocato Pizzi È l'avvocato Che segue Mohamed Da un mesetto Più o meno Nemmeno lui Si aspettava Che Mohamed Sparisse così Non gli aveva detto niente Per cui Nemmeno il suo avvocato Ok Nemmeno il suo avvocato Cioè l'unica persona Che lo sta difendendo Lo stava difendendo Anche molto bene Non aveva detto nulla Allora ritorniamo A quello che stavamo Dicendo prima Dunque Barbara La reazione Della mamma di Samira Alle parole di Mohamed Qual è Che cosa pensa Malika di Mohamed Per mia figlia Ci litigavo per mia figlia Mi raccontava sempre Ciò che le faceva Per quello Litigato con lui Perché non mi stava bene Come si comportava con lei E come si comportava Cosa le faceva Si comportava con lei male E la teneva sempre d'occhio Era geloso Cosa indossava Perché esci Non andare qua Non lavorare qua Lui non voleva che lavorasse O voleva che lavorasse No non la voleva che lavorasse Voleva che non lavorasse E la seguiva sempre Ai lavori che faceva La seguiva in macchina E stava nascosto Cioè stava nascosto Per guardare dove andava Dove entrava Questa faceva Però quando tu hai sentito Samira l'ultima volta Domenica 20 ottobre Il giorno prima che scomparisse Samira ti ha detto Che cercava un altro lavoro Lei non ti ha detto No, non mi l'ha mai detto Quindi non ti ha detto Che il giorno dopo Aveva un appuntamento Aveva un colloquio Il giorno che ha detto Ai carabinieri Mohamed Che mia figlia Aveva trovato un lavoro I carabinieri l'hanno guardato E non c'era nessun numero Nessuna chiamata Sui tabulati Nessuno aveva chiamato Samira per un colloquio di lavoro Questo colloquio Probabilmente non esiste Perché Mohamed È stato solamente lui Che ci ha parlato Di questo appuntamento Di lavoro Barbara Barbara Ti chiedi se c'erano stati Aveva mai picchiato Aveva mai picchiato Samira Mohamed No, non l'ha mai picchiata E quel giorno Stava ammocinando insieme Ha preso la bimba Aveva la bimba in braccio E la bambina gli ha detto Perché hai picchiato la mamma? E lui ha detto No, non l'ho picchiata E la bambina ha detto Sì, tu l'hai picchiata E le ha detto una botta in testa Ma questo quando è successo? Aul L'erba Mercoledì Questo è successo mercoledì Quindi adesso Qui quando voi siete Cioè da quando tu sei arrivata in Italia La settimana scorsa è successa questa cosa La settimana scorsa, sì Quindi la bambina ti ha detto La bambina era in braccio da lui In braccio al papà In braccio a Mohamed Sì E di sera lei ha detto Papà ha picchiato la mamma E la mamma è caduta a terra Queste sono parole che la bambina dice Ha detto secondo il racconto della nonna di Malika Mentre erano a cena tutti quanti qui in questa casa Quindi è una bimba piccolina La bambina avrà visto tante cose ragazzi Immagino che sia stata sentita Da psicologi Sia stata Dagli assistenti sociali Che comunque l'abbiano un po' Messa a tutela Barbara Questa bimba Perché anche a voi aveva raccontato delle cose La bambina No Barbara Sì la bimba è molto intelligente Una bimba molto sveglia Che sicuramente vede e sente Ma è sempre una bambina di 4 anni Che quindi confonde Potrebbe confondere la realtà Con la fantasia Con quello che magari sente in tv O se sente magari discorsi dei grandi Quindi per tutelare la bimba Che penso sia il pensiero Cioè il pensiero di tutti Va a questa bambina Che in questo momento Non ha più né la mamma E né il papà presenti nella sua vita Chiede sempre del papà Ieri piangeva Perché voleva il papà Malika Ieri la bimba chiedeva Papà Dove è papà Dove è papà Voi cosa le dite? Come fate A rincurarla A rassicurarla? Le diciamo che arriverà È andato a lavorare Sta arrivando Sta arrivando Per non farla piangere Poi le diamo i giochi Per giocare Io sono qua per mia nipote Ho lasciato tutto quanto in Morocco E sono venuta qua per mia nipote Senti che cosa Malika Malika Che cosa credi sia accaduto quella mattina Quella mattina In cui non avete poi più avuto notizie Di Samira Che cosa pensi possa essere successo? Tu lo sai che ci sono Più o meno Due o tre ore Massimo Massimo Lugli Due o tre ore di buco Di racconti Di Mohammed Sconfusionati Sconclusionati Il problema è che noi sappiamo solo Quello che dice lui E questo è il problema di questa storia E che è fino adesso Il Virgilio Quello che è Mohammed Che parte in causa E quindi c'è da supporre Che siano completamente bugie Noi veramente non sappiamo Per oggi ho una vicina Che ha visto Samira Le dieci e mezza Quando le ha portato dei vestitini Per la bambina Quindi questo è un fatto A molto certo Ma si è avuta l'ata con la bicicletta? Certo Però l'orario In cui l'ultima persona È quella della vicina Che ha testimoniato Sì sono le dieci e mezza Più o meno Le dieci e mezza Capito Marco Sono le dieci e mezza Sono le dieci e mezza Viene vista Dopodiché non viene più vista Lei è rientrata in casa Mohammed dice che non era in casa Ma a questo punto Non possiamo nemmeno più crederci Perché uno che prende e se ne va Vuol dire che No dice Dice Vabbè per il fatto che Un indagato Che dica questa sua versione È sempre così Nei casi di cronaca Non è che sia la prima volta Su questo non c'è dubbio Noi dobbiamo attenersi ai fatti I fatti purtroppo Evidenziati dagli inquirenti Non sono stati sufficienti Per far scattare l'arresto Io a questo mi attengo Il fatto che poi sia colpevole o meno Sì posso fare una supposizione mia Un mio libro pensiero Ma non posso Dirlo in uno studio Sia colpevole o meno Ma il fatto che Sia appunto scappato Questo è un grave indizio Che potrebbe far presupporre Sempre la sua colpevolezza Presupporre Quindi io Questo mi sento di dire Ma i trovamenti Degli oggetti a rate Sono un depistaggio Quando questo fa trovare La scarpa La catenina La cosa Ma chi ci crede Chi ci crede Anche la storia del finto lavoro Che adesso in questo momento La mamma ha detto Che non ne sapeva assolutamente niente E tutta la difesa di Mohamed Si è basata per giorni e giorni Sul fatto che lei andava a cercare un lavoro E non solo che lei dormiva lì Anche la sera Quindi Mohamed Che era così geloso Le permetteva di dormire Non so perché magari Non è d'accordo Che l'uomo di lavori Cioè dobbiamo anche pensare A un contesto sociale E sussurale Differente Allora Serri concludi Ecco sì Voglio dire Non sto colpevolizzando Sto rilevando degli elementi Assolutamente Totalmente incongrui Stop Dopodiché Scusa Eleonora Finora abbiamo sentito Soltanto la voce di Mohamed Ma adesso la mamma È fondamentale Perché sta raccontando Delle cose cruciali Dice Dice Cose importantissime Che litigavano Che la seguiva Adesso non so se c'è stata Una violenza fisica Se lui la picchiasse Ma non è altrettanta violenza Controllarla Seguirla al lavoro È una violenza inaudita Samira Sicuramente ha raccontato Molte cose alla mamma Ha raccontato che lui Era geloso Ossessivo La controllava Non voleva Che lei andasse a lavorare Poi sta facendo Poi sta facendo del gioco Delle macchinette Barbara Samira l'aveva detto Alla mamma Che Mohamed giocava D'azzardo Malika Che succede? Eleonora scusami Perché Malika Sta piangendo Che cosa succede? Malika Io voglio mia figlia Se è morta Voglio mia figlia Sono quasi tre mesi Che sono senza mia figlia Voglio sapere Dov'è? Voglio solo vederla Se è morta Non ci posso fare niente Voglio solo vedere Voglio vedere se Samira Voglio vedere Samira Noi non possiamo immaginare Il dolore che tu provi Nel non sapere Che cosa sia successo A tua figlia Alla tua bambina Ma il nostro abbraccio Credici Il nostro abbraccio sincero Più grande Il mio di Eleonora Di tutti quanti Va a te Devi essere forte Malika Devi essere forte Per la bambina Hai detto che sei Venuta qui Per la tua nipotina Devi essere forte Malika Forte Prima o poi scopriremo Che cosa è successo A tua figlia Malika Sto soffrendo per mia figlia Io voglio solo capire Cosa è successo a mia figlia Voglio solo capire Cosa è successo a mia figlia Che sia morta o viva E adesso Ho trovato le scarpe Ho trovato il portachiave Ho trovato la collana Non capisco niente In tutto questo Le ha trovate lui però Le ha trovate Le ha fatte trovare Diciamo Per cui Guarda Malika Sai con che affetto Stiamo seguendo Minuto per minuto La storia di tua figlia Sai che Faremo di tutto Veramente Per non lasciarvi soli Per non abbandonarvi Soprattutto perché Questo caso In qualche maniera Possa essere risolto Speriamo Che riescano a trovare Mohamed Che lo riportino In Italia Speriamo davvero Che Se ha fatto qualcosa Lui Inizia a dire Un po' La verità Veramente Da parte di tutti quanti noi Malika Un abbraccio Forte Forte Cerca Con il coraggio Che tu conosci Di trovare la forza Di andare avanti Soprattutto per tua nipote Hai detto bene Soprattutto per tua nipote Soprattutto per tua nipote